Lewis Hamilton è risultato positivo al coronavirus, il campione del mondo di Formula 1 britannico. Secondo quanto riferito dalla sua scuderia Mercedes, ha sintomi lievi, ma è in forma e sta bene, si legge nel comunicato ufficiale, in cui viene spiegato che il pilota è risultato positivo lunedì. Dopo tre test negativi, compreso il giorno della gara in cui ha vinto, Hamilton si è svegliato lunedì con qualche sintomo ed è venuto a conoscenza di essere entrato in contatto con un positivo prima dell'arrivo in Bahrain. Ora dovrà rimanere in isolamento secondo le regole anti-covid del paese, per lui dunque salta il GP di domenica prossima in Bahrain, penultima prova del Mondiale 2020 che si svolgerà comunque regolarmente. Il campione sarà sostituito da Stoffel Van Dornen o George Russell.